eccoci e bentornati sul mio canale primo video news e prime indiscrezioni primo grandissimo rumors sulla modalità zombies di call of duty infinite warfare cominciamo subito a prepararci al primo dlc avete capito bene il gioco è uscito soltanto da pochissimi giorni il day one era il 4 di novembre e oggi a distanza di pochissimi giorni parliamo già del primo dlc infatti sembrerebbe che all'interno della mappa zombies in spaceland la prima mappa zombies del titolo dell'infinity world ci siano appesi in giro per la mappa quindi sulle pareti numerosi manifesti di altri film di willard wyler quindi il regista di questa modalità all'interno di questi c'è uno veramente molto interessante lo stiamo vedendo la cosa particolare che il codice sorgente di questo file si chiama zmb poster dlc1 quasi a confermare che questo poster è preso dalla mappa zombies del primo dlc di call of duty infinite warfare la cosa sembrerebbe essere anche confermata in basso con la scritta coming soon quindi in arrivo se vediamo già questa immagine ci facciamo un'idea diversa rispetto a zombies in spaceland perché zombies in spaceland è ambientato in un parco giochi con clown e tutti i vari personaggi mentre questo poster ci riporta quasi indietro nel tempo quindi una modalità zombies con alieni modalità zombies con veri e proprio non morti e quindi una modalità zombies molto dark molto call of duty ghost quasi gli zombies della modalità estinzione quindi questa al momento sembrerebbe essere la prima immagine del primo dlc di call of duty infinite warfare fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate io ovviamente in questi giorni vi terrò aggiornati con tutte le ultime novità del mondo di infinite warfare e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale